Siamo ad Ariano nel Polesine, all'interno dell'impianto di Ariano Biometano, un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di effluenti zootecnici destinato alla produzione di biometano liquido. In questo momento l'impianto viene alimentato con effluenti liquidi e solidi provenienti da allevamenti zootecnici e da allevamenti di avicoli. Nello specifico carichiamo letame bovino, liquame bovino e pollina da allevamenti di polli. L'impianto per il trattamento degli effluenti è dotato di un sistema brevettato per la movimentazione del solido, della frazione solida, per evitare che gli operatori siano costretti a intervenire quotidianamente con la movimentazione meccanica con pale per il caricamento nei digestori, il caro ponte è totalmente automatizzato, riesce a rilevare i cumuli di materiale, a pesarne le quantità e a trasferirli nella tramoggia di caricamento. La fase liquida viene caricata attraverso delle pompe che alimentano la prevasca e tutto l'impianto è composto di sette digestori che implementano la digestione anaerobica. La produzione finisce in un impianto di trattamento che garantisce l'abbattimento dell'acido sulfidrico, della parte di umidità grazie a un impianto di strippaggio e a un chiller per la riduzione appunto del componente di umidità. A quel punto il biogas grezzo finisce all'interno dell'impianto tecnologico per la raffinazione del biogas in biometano grazie a un compressore che spinge il gas attraverso delle membrane, l'impianto è appunto a membrane, abbiamo la separazione delle due fasi gassose, la CO2, l'anidride carbonica e il CH4, il metano che a quel punto è nella sua fase più pura, stiamo parlando di 99,6, 99,7% di purezza. Un ulteriore trattamento che noi abbiamo deciso di implementare per favorire la logistica di distribuzione e la densità energetica del materiale è la liquefazione. Grazie a un impianto di refrigerazione specifico portiamo il prodotto a meno 147 gradi, a quel punto parliamo di GNL, metano liquido, puro, stabile, nella sua forma liquida a due bar e mezzo, che attraverso una logistica specifica viene portato nei distributori stradali e diventa il combustibile per buona parte dei nuovi mezzi pesanti a basso impatto ambientale. L'impianto nasce predisposto anche per la valorizzazione dell'anidride carbonica, che è il secondo componente del biogas grezzo. Al momento non è ancora installata la parte di impianto destinata a questo trattamento, a breve riusciremo a implementare il progetto e la tecnologia necessaria per riportare sul mercato tendenzialmente del beverage, ma anche sul mercato medicale, ma anche sul mercato industriale, la CO2 raffinata e liquefatta grazie a questa tecnologia. Ulteriore prodotto in uscita da questo impianto e non secondo a nessuno per importanza in questo territorio è il digestato. Il digestato che noi produciamo in forma liquida e in forma solida è destinato a soddisfare le esigenze di fertilizzazione delle campagne circostanti nella sua forma solida principalmente per orticoltura, vivaistica e floricoltura, nella sua forma liquida per ritornare materiale organico per fertilizzare le campagne destinate alle culture intensive. Per dare due numeri di caratterizzazione dell'impianto stiamo parlando di un impianto che complessivamente oggi ha una capacità produttiva di 10 tonnellate giorno di GNL, quindi di metano liquido prodotto pronto per andare sul mercato dell'autotrazione e come matrici in ingresso parliamo di un impianto che a regime sarà in grado di digerire, quindi avere una ricetta composta di almeno 400-450 tonnellate di effluenti zootecnici in ingresso. Una caratteristica essenziale di questo impianto e non seconda alle sue capacità produttive è il servizio svolto a supporto delle comunità agricole del territorio sia a lato allevatori sia a lato coltivatori. Per volontà degli amministratori e per volontà di chi ha sviluppato il progetto di fatto si interviene a supporto della comunità agricola risolvendo un grande problema di sostenibilità degli effluenti, quindi lavorando con la digestione anaerobica riusciamo a catturare e a riutilizzare in maniera produttiva sia la frazione di metano contenuta negli effluenti sia la frazione della CO2 contenuta negli effluenti. Ulteriore grande vantaggio ritornato alla comunità agricola quindi ai coltivatori dei terreni è il valore del digestato che riportato in campagna a nostre spese ritorna il potere e la capacità organica ai terreni coltivati che qui intorno sono la maggioranza.